Stefano Chiarlo, Presidente di Astesana Strade del Vino, un ruolo importante soprattutto qui a Canelli per questa prima manifestazione dell'UNESCO. Il territorio è pronto, Presidente, o ci sono delle cose ancora da registrare? Sì, ci sono ancora diverse cose da registrare onestamente anche perché dobbiamo essere pronti secondo me a un turismo più colto e più esigente e quindi sia dal punto di vista delle cantine o anche dei ristoranti e degli esercenti dobbiamo avere una mentalità più elastica in fatto di orari, in fatto di tenere aperte anche le cantine nei fine settimana ma anche nel fatto di fare sinergia come oggi tra tutte le zone. Comunicazione ma anche servizi. Deve diventare secondo me, la zona UNESCO è una zona unica e dovrà diventare una zona unica a tutti gli effetti, quindi il lavoro è ancora molto lungo ma ce la mettiamo tutta. Senta, in queste nuove guide che avete fatto con la mappa e ci sono anche gli artigiani del gusto, io le dico solamente una cosa per provocare. Oggi pomeriggio su internet gira la notizia due gelati e una bottiglia di acqua minerale in un bar a Roma a 42 euro. Voi non fate queste cose nell'UNESCO, vero? Ma secondo me non ci sarà il problema di avere un turismo di massa perché comunque chi viene qui già oggi o nelle Langhe è un turismo enogastronomico che quindi non ci sarà spazio per le attività di basso rilievo perché secondo me chiuderanno presto quel tipo di attività. Non bisogna approfittarne perché poi quando vengono in Piemonte, vengono nei ristoranti giusti, nelle cantine giuste, dai selezionatori di formaggi giusti, di solito tornano tutti. Quindi ecco bisognerà comunque coltivare quel tipo di turista che torna volentieri, quindi non prenderlo per la pelle ma prenderlo per le mani. Lei è anche un produttore di vino, una griff del vino, le cantine si stanno preparando perché l'UNESCO ha riconosciuto i paesaggi vitivinicoli e forse tenerle aperte solamente un giorno all'anno non va bene, bisognerebbe sempre che siano aperte o no Presidente? Sì, quello che accennavo prima è il fatto che faremo delle riunioni a breve proprio per sensibilizzare tutti noi produttori di vino nel renderli fruibili non solo in settimana ma soprattutto nei fini settimana. Perché chi giustamente è attratto dal patrimonio vitivinicolo è un turista o un ESCO, prima di tutto vorrà vedere il territorio ma sicuramente entrare nelle cantine, conoscere il produttore, assaggiare i vini e magari portare a casa qualche bottiglia. Quindi è basilare quello. Grazie. Grazie mille a voi.